E adesso? Poi il piede sinistro si muove. È normale, sono uniti involuntari del corpo. Poi? Sopra il piede sinistro. Vorrei precisare che questa è una forza intelligente, questo è un lavoro libero, non si seguono posizioni, non è che martedì andremo a vedere la connessione al sesso superiore, dove si seguiranno dei punti precisi, ma la tua regione è libera. Quindi io lavoro sul polvastretti, sulla mano, sul campo energetico di Alberto, magari io lavoro sulla mano e lui si impiede liberare. Quindi è una forza intelligente, non sono io a guidarla, ma sa esattamente dove deve andare. E questa è una cosa bellissima, c'è proprio il discorso della fiducia, dell'affidamento concreto, totale e continuo.